Grandi musiche, grandi sonorità, grandi pressioni, grandi sensazioni, è tutto molto importante quando si affrontano Napoli e Milan. Davide Calabria che trova Musa, Musa si gira, il tiro di Musa c'è la deviazione, Giroud palla in angolo, la grande occasione del Milan. TG Reinders trova Christian Pulisic, Pulisic a destra, Pulisic può puntare Mario Rui, ecco il cross, la deviazione, la palla in gol di Olivier Giroud che la mette dentro al San Paolo, quando ci stiamo avvicinando al ventiduesimo, tira via tutto Oli, tira via tutto Oli, cross di Christian Pulisic al bacio per Olivier Giroud. Ecco Yunus Musa, Musa che punta direttamente l'area di gol del Napoli, lo aspetta Mario Rui, Yunus Musa, Yunus Musa è salito anche Cala, è salita anche Cala, siamo in troppi lassù, Calabria, cross di Primabello, Giroud di testa, 2-0, ancora Olivier, Olivier Giroud, 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 2-0 per noi, 2-0 per noi, ancora Raffa, Raffa l'allargo per Teoteo, Teoteo, Teoteo in mezzo, palla alta di TG Reinders. Teoteo, Teoteo, dentro, palla nostra, TG, TG, Lebera, fuori esettero, deviazione, palla ancora nostra, in area di rigore, porta vuota, Teoteo se l'allunga, Teoteo se l'allunga, ancora Musa, la parata di Meret. Questa è l'utilità di Rade, questo accompagno importante a Di Lorenzo in un'azione di prima bella del Napoli, attenzione, Pellegrino, saltato, Pellegrino, il tiro, il gol, gol del Napoli. Napolitano, nuovo duello con Teoteo, attento Teoteo, palla dentro, molto bella di Lorenzo, è la grande parata di Mike Mignano, grande parata di Mike, prova a risalire la corrente il Milan, ma il Napoli recupera con Nathan che calcia alto e fuori. Gol di Raspadori, 2-2, Napoli che ci ha raggiunti, vediamo come legge il Napoli, Leao, Leao contro Rafa, dentro, palla per Musa, colpo di tacco, Rafa, il tiro, la deviazione di Meret in angolo. Bel tiro di Rafa, Leao, deviazione in angolo di Meret, ancora Tigi, Tigi va al cross, bella palla, Jovic, Jovic, di testa, fuori, fuori, cala Calabria, fuori, cala Calabria. Zanoli, va al cross, la deviazione, l'opposizione di Aleflore, bravo, perché questa deviazione? No, 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 la parata di Mignano, è finita. È finita. Miracolo di Mignano che salva il dia 2. Va bene, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.